C'è anche un'azienda padovana tra le vittime dell'attacco sferrato dagli hacker in tutto il mondo in queste ore. I computer della Maschio Gaspardo, infatti, che è la sua sede principale a Campodarseco, azienda leader nel settore delle macchine agricole, si sono improvvisamente bloccati diventando inutilizzabili. Immediatamente sono state fermate tutte le linee produttive regolate dai computer che l'attacco degli hacker hanno reso inservibili. E subito si sono messi a lavoro i tecnici informatici interni all'azienda. La previsione è quella di riuscire a ripristinare i computer entro lunedì, ma fino a quel giorno la produzione resterà ferma. Nello stabilimento di Pordenone, invece, sono stati disattivati precauzionalmente alcuni sistemi informatici per valutare la situazione e programmare un pronto ripristino di tutte le funzionalità. L'azienda, tra 100 milioni di fatturato anno, ha chiesto per gli operai impegnati nelle linee produttive, ovvero 250 addetti a Campodarseco, altri 150 a Cadoneghe e 250 in provincia di Pordenone, la cassa integrazione ordinaria per un paio di giorni, dopodiché le linee produttive dei tre stabilimenti torneranno a funzionare regolarmente. Nel frattempo il personale amministrativo e commerciale ha continuato a lavorare con programmi e strumenti di emergenza. Tutti i servizi commerciali, infatti, sono rimasti operativi, in particolare quelli di assistenza e ricambi. Lo scopo è quello di rendere il disagio più indolore possibile.